3 metri e mezzo comunque quelle le classiche band partiamo ovviamente c'è anche l'indicazione quasi tutte le band ormai ce l'hanno in inglese però io consiglio dico sempre ai miei ragazzi non guardare tanto la scritta ma la cucitura a contatto con la pelle è un po' più semplice allora primo giro sul polso dopodiché dar sempre dall'esterno all'interno andiamo a bloccare faccio partire subito questo faccio bloccare subito il pollice o ragazzi mi raccomando non tirate molto la benda altrimenti poi si blocca la circolazione sulla mano ma soprattutto non lasciate la lenta dall'esterno all'interno andiamo su ritorniamo benissimo andiamo poi a coprire con un giro le nocchie da palmo aperto chiudiamo vedete questo a proteggere le nocchie dopodiché da sotto andiamo sul polso e partiamo a intrecciare apriamo la mano tra anulare e mignolo chiudiamo chiudiamo bene e randiamo sul polso bene andiamo già per una forma di fasciatura apriamo di nuovo tra medio e anulare passiamo e chiudiamo e ritorniamo sul polso qui apriamo tra indice e medio chiudiamo e blocchiamo bene una volta che abbiamo fatto questo torniamo e diamo un altro giro di benda sulle nocchie e poi andiamo a chiudere sul polso è una vedete questa parte la mano rimane aperta il polso è bloccato le nocchie sono ben protette e abbiamo fissato ovviamente anche il pollice è una modalità di fasciatura è molto easy base che può essere fatta velocemente da tutti gli amatori principianti in palestra secondo metodo che vado di illustrarvi sempre come prima o seguiamo l'indicazione in inglese di side up o altrimenti quella ancora più semplice di avere sempre questa cucitura a contatto con con la pelle filiamo il laccetto nel pollice un giro bene sul polso io vi consiglio sempre ai miei ragazzi di fissare innanzitutto di bloccare dall'esterno all'interno il pollice non andiamo sul polso dopodiché andiamo qui bene sulle nocchie ora facciamo questo formiamo a protezione delle nocchie queste due ondine vedete una e due uso il pollice sempre della mano che sto bendando per bloccare per tenere ferme le fasce altrimenti scappano dopodiché faccio un altro giro in modo da liberare il pollice e posso anche sistemare bene per proteggere ancora meglio le nocchie vedete le fali e le bende sono ferme chiudo e ritorno sul polso dopodiché facciamo come abbiamo visto prima tra anulare e mignolo e chiudo vedete c'è già molto più spessore rispetto a prima chiudo torno sul polso apro tra medio anulare chiudo torno sul polso tra indice medio chiudo bene posso fare un nuovo giro sul pollice e vado a chiudere la mia benda questo come vi ripeto è un metodo un po più avanzato sempre abbastanza semplice che ci permette di avere sempre polso serrato pollice fermo e una buona protezione sulle nocchie possiamo anche oltre o andare a fare un nuovo giro sul pollice oppure chi lo desidera può andare a fare una un altro giro sulle nocchie vedete in questa maniera anziché ritornare sul polso sulle nocchie e poi vado a chiudere per concludere il risultato è sempre lo stesso e abbiamo una buona fasciatura eccociatura 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 eccociatore